Ok, ci siamo, lo sapevo. Sì, sì, esatto. Ottimo, 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 esattamente ciò che volevo, esattamente. Ok. Ok, la malice. Cosa? Ok, Ganondorf, Link, cosa stava succedendo? È caduta! Ma non era... Nel cielo? No, è Zelda! Dov'è finita? Non ci credo, le isole volanti, davvero! Non ci credo! La mano zonai... L'abilità... Lo stesis? Oddio! Le nuovissime abilità incredibili, ma lei è Zelda! È Zelda! È Zelda! È Zelda che ha la mano zonai! Il castello va in cielo? Cosa sta succedendo? 2022, come giustamente sapevamo. Ok, include il cielo, sì, era... Era probabile. Ok, ok, ottimo. Ok, farò sicuramente teorie su queste immagini, insomma, che ci hanno fatto vedere. È le just... Noi, grazie. Grazie a tutti! Grazie. Yeah. Grazie a tutti.